ciao a tutti oggi voglio presentarvi un prodotto che ho acquistato su amazon e una grattuccia professionale questa era la confezione solo che io naturalmente per utilizzarla farvi vedere come si usa ho dovuto lavarla e protetto da questa protezione di plastica perché essendo tagliente potrebbe farvi male magari nel cassetto mentre la cercate di prendere delle cose approviamo a usarla come vedete molto vedete come taglia bene e in fretta se abbiamo bisogno di fare anche una torta dobbiamo grattugiare gli ingredienti anche la noce moscata questa è la mela fare anche la mela grattugiata per i nostri bambini vedete come viene bella della morbida proprio viene una crema possiamo però anche grattugiare il cioccolato che è duro anche il formaggio proviamo col cioccolato bene anche questo perfetto mele cioccolato buonissimo ciao a tutti